Sorride Luciano Spalletti, il tecnico quest'oggi potrà iniziare a preparare il match contro i rossoneri riaccogliendo i primi calciatori reduci dagli impegni con le nazionali. Meret Di Lorenzo, Politano e Lobotka, questi ultimi due grandi protagonisti delle sfide giocate ieri con Italia e Slovacchia. Spalletti a scaglioni riavrà entro giovedì gli altri 12 calciatori ancora in giro per il mondo. Lozano ieri è andato in gol nella sfida del suo Messico contro la Giamaica, quest'oggi scenderanno in campo altri 6 azzurri. Occhi aperti soprattutto su Kim e Kvara Scheria, non solo per l'impegno di erni calcistici con le loro nazionali ma anche per questioni contrattuali con il club partenopeo. I due calciatori giunti al Napoli in sordina questa estate e protagonisti di una nata straordinaria inevitabilmente sono stati attenzionati dai top club europei. Per Kvara sembrano non esserci problemi, a breve ci sarà un raddoppio dell'attuale ingaggio, il prolungamento di un anno del suo contratto quinquennale, qualche grattacapo in più per Kim. Con gli agenti del difensore coreano, seppur non ci sarebbero problemi per durata e compenso, il vero problema è eliminare la clausola recissoria da circa 45 milioni di euro. Una clausola che il club ha già accettato con qualche ritrosia la scorsa estate e che alla luce delle prestazioni del coreano in questa stagione sembra una diminuzione rispetto al reale valore economico raggiunto dal calciatore.